C'è una ripresa per quanto riguarda Bitcoin ed è di nuovo ad un livello di resistenza molto importante, un'area importantissima questa qui, ma soprattutto questa fase rialzista è stata molto influenzata dagli ETF per l'ennesima volta. Questa duplicità, questa relazione, questa chain, visto che siamo in ambito tra Bitcoin e i suoi ETF spot, non passa, tanto è vero che in questo grafico che vedremo oggi ragazzi, anche questo qui, risulta palestemente evidente che l'inflow di Bitcoin è anche motivazione del fatto che negli ultimi periodi è riuscito a fare un po' di ripresa. Soprattutto la scorsa settimana che ha portato a casa un 7,83% e sta provando anche questa settimana, c'è un tappo qui, quello che vedete, quest'area qui, potrà farcela, potrà non farcela, c'è una struttura di analisi ciclica che riguarda uno dei cicli dell'albing precedente che voglio riproporre qui, ne abbiamo parlato tanto, però andiamo a fare un upgrade, un update anzi di questa cosa qui, andiamo a vedere dove siamo, quanto tempo manca perché se c'è questa similitudine con il ciclo dell'albing precedente, non è lo scorso ragazzi, è uno precedente ancora, c'è anche una possibilità che si possa assistere ad una fase di pump and dump proprio nelle prossime settimane. Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video e metto una spilla bitcoin e soprattutto rilancio la moneta ragazzi, up o down? Vediamo che cosa esce tutti insieme. Era meglio, era lanciato, dice down di nuovo ragazzi, vabbè, 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 andate qui. Allora ragazzi, vi faccio vedere un po' i grafici di oggi partendo ovviamente da quello che è la questione delle news relative alla settimana in termini macroeconomici. Eccoci qui, allora, la questione legata alla scorsa settimana è stata tutta incentrata sul tasso di inflazione, nella giornata di domani ci sarà un discorso del Presidente della PCL Agard e poi, atteso ovviamente, i verbali dell'Unione del Fonc, che saranno il mercoledì 22 di maggio. Poi c'è una spilta di dati il giovedì 23 maggio, la richiesta di sostegno di disoccupazione. Questa volta può essere, può essere anche importante andarle a valutare ragazzi perché se dovessero essere estremamente diverse dalle attese, potrebbe essere un altro segnale di legarmi con la questione recessiva. Questo perché abbiamo visto la fiducia dei consumatori calare nella scorsa rilevazione, quindi è importante magari riandare a vedere dei dati che sono collegati a quel dato. Quindi questi sono i dati principali, soprattutto i verbali dell'Unione del Fonc saranno importanti. Per ribadire più o meno quello che i mercati della scorsa settimana hanno visto, cioè sostanzialmente la questione che l'inflazione è controllata, non va malissimo, è l'attesa nuovamente di un ribasto dei tassi di interesse verso la fine dell'anno. Se si mantiene questo dato, questa mood, diciamo così, per quanto riguarda i mercati finanziari, Bitcoin e le cripto ne beneficeranno. Soprattutto Bitcoin, devo dire, piuttosto che le cripto perché abbiamo visto anche Ethereum salire, ma comunque restare al pallo rispetto a Bitcoin anche la scorsa settimana. Vi faccio vedere intanto quello che è Nasdaq perché Nasdaq 100 sta superando i suoi massimi storici, proprio con la candela di oggi nuovamente. È indirizzato verso i nuovi massimi storici. Qui, tra le altre cose per gli amanti dell'analisi ciclica, è iniziato un ciclo semestrale di Nasdaq 100. L'annuale è iniziato qui, quindi andiamo verso i massimi storici e anche i massimi di questa struttura ciclica annuale. Attenzione a sottovalutare questa fase ciclica perché in particolar modo, secondo me, è la più collegata all'attuale momento. Quindi molto interessante andare a vedere se effettivamente questo trend di Nasdaq possa essere mantenuto anche verso la fine dell'anno. Mentre invece una chiusura annuale di Nasdaq potrebbe in effetti anche essere indicativa di un ingresso in By The Deep perché il lancio di un nuovo ciclo annuale da questo punto in poi con la coincidenza del taglio dei tassi potrebbe indicare proprio il momento preciso dell'inizio della politica di allentamento del tasso di interesse della Fed di cui ovviamente i mercati classici ne beneficeranno così come i mercati del cripto. Andiamo a vedere la questione invece legata agli ETF. Questo grafico che è il primo, poi vediamo anche l'altro. Bitcoin totalmente manovrato in pratica dalle emissioni di liquidità degli ETF. Mercato cripto invece lasciato in solitario. Quindi i movimenti del mercato cripto ci sono per effetto riflessivo, ma è un po' abbandonato, no? A se stesso. Tant'è vero che tutti mi chiedete sempre ma l'ant season, l'ant season, l'ant season... Secondo me l'ant season deve venire dall'interno e soprattutto io me l'aspetto più o meno, ecco, da giugno in poi. Ne avevamo parlato già diverse volte. Siamo arrivati, siamo lì. Vediamo cosa succede dopo una piccola chicca che voglio farvi vedere proprio in questo video tra pochissimi minuti. Cioè una chicca che andiamo a vedere su questo grafico è che da lì possiamo anche nuovamente avere una data di riferimento. Ma in pratica questa alt season... Sì, alt season no, al momento ancora non ce n'è. Anche se le cripto stanno salendo un po' ognuna sparsa per i fatti suoi. Quindi in generale non vanno male. Però non ce n'è anche questa alt season. E soprattutto il re delle cripto, cioè la regina, scusate, delle cripto che è Ethereum, ma non sta performando. Tra l'altro attesa in questa settimana la questione legata all'ETF probabilmente non sarà approvato, almeno i mercati dicono così. Ci dovesse essere un'approvazione sarebbe uno shock incredibile di prezzo perché Ethereum non è in questo momento prezzato la sua approvazione dell'ETF spot. Qualora dovesse avvenire una cosa del genere shockerebbe i mercati e questo causerebbe un'impennata enorme di prezzo di ETH. Ve lo dico in maniera molto semplice. Forse una operazione di trading speculativa potrebbe essere proprio quella di fare un buy il giorno del 23 di maggio che si discute appunto sulla questione dell'approvazione dell'ETF perché in questo caso qualora non dovesse essere approvato è già scontato. Qualora invece dovesse esserci qualcosa sulla approvazione dell'ETF di Bitcoin a quel punto potrebbe essere in effetti anche un po' pompare alla grande. Qui insomma nell'articolo che abbiamo pubblicato su Trading On ragazzi a proposito trovate tutti gli articoli del blog già predisposti per la lettura eccetera e già belli scremati da tutte le notizie inutili totalmente li trovate sul canale Telegram lascio il link in descrizione al canale Telegram ma è gratuito tra l'altro lì io pubblico anche una serie di analisi ogni tanto quando c'è necessità e soprattutto quando non posso fare magari dei video di YouTube quindi iscrivetevi gratuitamente al canale Telegram dal link in descrizione. Però ragazzi l'approvazione su ETH magari dice ok se la provano che ciò con il mercato probabilità è 0,1% però se c'è ovviamente io sono dentro quindi si potrebbe pure tentare tanto se non va alla fine che si perde poco probabilmente perché la notizia è già scontata vabbè non sono consigli finanziari come sempre allora vi faccio vedere il grafico ragazzi soprattutto togliendo quello che è la spunta su tutti i vari ETF le varie case che hanno ETF e Bitcoin ho messo la struttura in Bitcoin e non in Dollaro perché in Dollaro si vede di più questa fase di alzista in quanto abbiamo l'impatto dello stesso prezzo di Bitcoin in termini di AUM quindi asset under management qui invece si vede proprio l'impatto dei Bitcoin in effetti da questo punto in poi c'è stato un riaccumulo di BTC da parte degli ETF il riaccumulo che si vede anche notevolmente da questa fase quindi proprio nella giornata del 3 di maggio era iniziata tutta questa fase di riaccumulo poi abbiamo il 6 poi abbiamo avuto 7, 8, 9, 10 di niente poi abbiamo avuto ragazzi vedete 13, 14, 15, 16 e 17 tutte fasi di accumulo verdi vi ricordo che questa zona qui ha causato l'impennata dei prezzi di Bitcoin dell'inizio dell'anno quindi in pratica tutto il rendimento dell'anno 2024 è stata creata da questo influsso di ETF che ha portato il prezzo di Bitcoin da 42 addirittura a 72 mila dollari questo è insomma giusto per farlo capire allora andiamo alla questione invece delle analisi di natura tecnica e ciclica in particolar modo la questione ciclica la possiamo affrontare diciamo in un video separato io oggi volevo farvi vedere invece questo video qui che è il video di Bitcoin che è il grafico di Bitcoin a livello settimanale per farvi comprendere anche la questione legata a due strutture intanto la prima struttura ciclica di medio e lungo periodo la ripetitività di questo ciclo annuale corto che io ho posizionato qui ma già nel video precedente vi dicevo che potrebbe in effetti non essere così precisa perché qui quando ci sono cicli internari qui potremmo tranquillamente avere anche delle fasi leggermente un po' più lunghe e anche addirittura assistere a nuovi massimi vi faccio vedere tra le altre cose una struttura di ripetitività storica che su questo grafico ci riporta proprio quel concetto lì cioè la possibilità che Bitcoin vada a fare nuovi massimi in questo momento e poi un dump è proprio il pump e dump che vi sto dicendo e vi ho fatto lo spoiler però vi faccio capire perché quindi da un punto di vista di ciclicità di medio e lungo periodo qui teoricamente siamo in questa fase dove possiamo fare una roba del genere ma poi dobbiamo comunque a breve andare a chiudere una struttura ciclica ora ragazzi la domanda è sempre la stessa se qui Bitcoin sta facendo un ciclo annuale classico da 440 giorni circa più o meno allora ha ancora possibilità di star su per un po' di tempo prima di andare a fare questa chiusura ma se sta cercando di ripetere il ciclo annuale precedente intorno ai 30 giorni e di questa cosa ancora non c'è spazio di saperlo perché fino a quando regge questo minimo noi non possiamo dire che stiamo andando a fare una cosa del genere a quel punto tra un po' di giorni inizieremo ad assistere a questa fase di ribasso a dire la verità sarebbe preferibile o spicabile questa zona qui questa fase qui piuttosto che l'altra perché l'altra è vero lascerebbe spazio ad un nuovo massimo però sposterebbe in sostanza la fase di bassista più in là che comunque dovrebbe a quel punto esserci in un modo del genere quindi è come se qui abbiamo preso una pausa ma poi la pausa la andiamo a rifare dopo questo guizzo che magari non sarà neanche così tanto significativo magari un 7-8% un 10% rispetto ai percenti massimi perciò se invece qui chiudiamo tutti i giochi poi magari abbiamo più tempo per fare questa fase di risalita la chiave di volta per capire una di queste due di questi due scenari è questo minimo cioè il riavvicinamento di bitcoin al tentativo di rompere questo minimo sposta l'idea della ciclicità intorno ai 300 giorni quindi come il ciclo precedente più o meno simile a questo qui altrimenti se questo minimo non dovesse essere attaccato quindi non ci dovesse essere un tentativo di fare una cosa del genere potremmo essere nella seconda scenario quello che ci sposta verso la possibilità di avere i nuovi massimi ed è proprio attraverso questo scenario che vi introduco la serie storica che volevo farvi vedere oggi una serie storica importante di ciclicità dell'albing che è quella che riguarda l'anno 2017 più volte nell'arco di questi mesi questo struttura qui ragazzi più volte nell'arco di questi mesi io mi sono espresso a favore del fatto che l'attuale fase di bitcoin ciclicastica molto più vicina al ciclo dell'albing che avvenne tra il 2016 e il 2018 piuttosto che a quella invece precedente che abbiamo avuto a volte i dati storici e le similitudini bias con tv eccetera ci portano a dire che magari un ciclo passato sia possa essere ripetuto e ci dimentichiamo della storia ora i mercati sono ciclici è vero ma non ripetono la storia in maniera precisa altrimenti sarebbero dei banco matta ovviamente però lasciano delle tracce questo ciclo attuale è molto più simile a quello del 2017 io l'ho detto veramente tante tante volte probabilmente sarà un po' più corto di quello del 2017 ma si vede anche la similitudine di comportamento qui c'è una curva esponenziale che magari qui non avremmo però si vede la similitudine dei canali rialzisti a differenza di questo che era estremamente variegato anche qui c'era stato un app e poi anche se escludendo diciamo la variabile della pandemia c'era stata tutta questa struttura di congestione molto lunga che non abbiamo per niente visto anche in questa zona quindi facciamo un giochino ciclico classico io voglio andare a vedere in pratica quanto tempo è passato dai minimi di questa fase rispetto all'attuale fase che noi stiamo vivendo quindi qui ragazzi siamo a 553 giorni quindi se io vado in pratica a ragionare in questa struttura qui sto andando a verificare che siamo più o meno più o meno a in questo punto qui quindi questa struttura ciclica questa struttura ciclica ci lascia una informazione che è un'informazione abbastanza rilevante cioè a livello di ripetitività rispetto ai cicli del 2017 noi siamo nel pieno di una fase di congestione che ha creato un minimo di partenza dal cui poi è partita dal quale è partito poi un ciclo nuovo questa fase di minimo questa fase di minimo bitcoin in effetti in effetti la sta creando e potrebbe anche averla finita perché in realtà non c'è una grande motivazione al fatto di dire 5,50 5,25 cioè siamo serie storiche guardiamo quindi i numeri nel dettaglio di precisione non vanno assolutamente bene nel valutare questo tipo di logiche io lo dico da un sacco di tempo ci sono diverse scuole ovviamente c'è chi pensa che bisogna essere precisi al dettaglio io non la vedo così per mille un milione di motivi tanti anni di esperienza eccetera però è inutile fare il dibattito da questo punto di vista serve a poco a chi è dall'altra parte dello schermo però questa zona potrebbe in effetti aver già creato questo minimo o comunque l'idea di fondo è che siamo nella zona di creazione di un minimo dal quale poi è partito nell'anno 2016 luglio fino alla fine del 2018 18 17 scusate la struttura poi di fase finale della bullrun più imponente diciamo che io mi ricordi in termini di curva perché la precedente era alta però era diciamo all'ascensore quindi veramente gigantesca però questa è stata anche molto tradata insomma io c'ero me lo ricordo bene quindi è stata molto bella quella fase lì allora qui in pratica abbiamo nuovamente una conferma di questi due scenari e dell'approccio corretto che noi abbiamo avuto finora da inizio dell'anno perché da inizio dell'anno stiamo valutando questi due scenari e non ci hanno tradito in questo momento infatti siamo riusciti a cavalcare tutta l'onda tutta questa fase di alzista e anche a stare al passo con questa fase correttiva che io vi ho fatto la testa così dopo dell'albing vi ho detto se facciamo i massimi prima dell'albing e dopo andiamo in congestione così è stata me l'aspettavo più lunga questa congestione invece addirittura no da qui nasce la domanda se continuano a pompare questi etf perché ovviamente c'è di mezzo qualche puga di notizie legata per esempio all'emissione di liquidità e quindi allentamento della politica monetaria da parte della fed a quel punto potremmo anche assistere in effetti ad una fase di ripresa già direttamente da qui attenzione perché voglio andare anche più a fondo la successiva poi fase di declino avvenne sostanzialmente intorno al settecentesimo giorno prima e poi più brusca intorno al settecentosettantesimo giorno quindi settecento dieci settecentosettanti quindi in pratica è come se noi dovessimo andare a fare una fase di questo tipo e poi andare a chiudere la struttura ciclica sottostante quindi ora la morale qui è molto semplice come se qui insomma noi dovessimo fare una roba di questo tipo e poi da qui andare a fare la chiusura poi finale di questi movimenti in pratica la struttura ciclica dei dati passati propende più per lo scenario 2 cioè quello che la fase di passista sia finita facciamo nuovi massimi e poi facciamo la chiusura del ciclo annuale più in là che però è breve non si vede nel 2017 perché era tutto pompato nel 2017 qui magari si potrebbe vedere un po' di più però fatto sta che a livello ciclico c'è questa possibilità valutiamola è soprattutto importante essere a cavallo di questa fase lo sto dicendo da dieci giorni che era importante essere long in questo momento per evitare questo problema anche volendo uscire poi da queste operazioni con uno stop leggero o una pressa di profitto leggera siamo sempre in tempo risalire invece era difficile soprattutto se il bitcoin si sta spingendo a fare nuovi massimi quindi era meglio ed era molto importante esserci dentro prima per questo motivo beh detto questo ragazzi io vi lascio all'inizio della settimana e vi do anche una notizia per chi è arrivato alla fine del video oggi è il mio compleanno e quindi io stasera vandrò a festeggiare e a spedazzare e vi voglio bene come sempre sono contento di stare qui con voi anche il giorno del mio compleanno perché per me questo non è un lavoro ma è come parlare con la mia pseudo famiglia come si dice quella allargata quella della vita e quindi grazie di essere qui anche oggi e io vi auguro buon inizio settimana ciao a tutti